Successo per la rappresentazione teatrale Esperios Occidentale, la nuova opera di Fabio Pallotta che rappresenta il terzo appuntamento teatrale del progetto La Poesia come migliore strumento di accesso alla conoscenza. Dopo i successi di Eratostene e D'Aretusa con Esperios l'Università di Camerino conferma il suo impegno divulgativo multidisciplinare tracciando un ambito di ricerca e di formazione comune in cui sviluppare ed approfondire la cultura scientifica e quella umanistica attraverso le arti immortali della scena. Esperios, lavoro per parola, musica e danza, affronta e scava l'origine e l'identità dell'Occidente e dell'uomo occidentale. Esperios è il viaggio mitologico della principessa Europa che da Oriente, motore del mondo, migra d'Occidente per confluire nel vortice del bacino del Mediterraneo verso un nuovo mondo. È la nascita dell'alfabeto. Esperios è figlio del Mediterraneo proprio quando le opere costruite dall'uomo sulle pietre condividono il disegno armonico della natura, come i mille teatri di pietra creati in ogni luogo. Nella messa in scena di Aurelio Gatti il racconto di Fabio Pallotta diventa dialogo ed azione. In scena otto interpreti della compagnia MDA Produzioni, gli attori Sebastiano Tringali, Raffaele Gangale, Sara Giannelli e di danzatori Carlotta Bruni, Rosa Merlino, Luca Piomponi, Paola Saribas, accompagnati dal canto delle odi di Francesca Fariello.